Mi chiamo Luciano Carpi Io vivo a Pietraviva dal 2002, sono un consulente di direzione e sono arrivato qui quasi single e infine è cresciuta la famiglia in quest'area qua. La Pietraviva è un paesino che si trova in provincia di Arezzo, il comune di Bucine, in cui un'intera generazione di persone sono andate via. Si sta ripopolando forse adesso di una generazione che viene da fuori. È una generazione che la prima infrastruttura che ha cercato è stata chiaramente la banda perché se per noi è stata importante tanti anni fa che ci fosse l'acqua, luce e tutto il resto, adesso la banda è in realtà l'infrastruttura primaria se uno vuol decidere di star qui e contemporaneamente non essere tagliato fuori. Le difficoltà primarie prima della banda larga erano che non ti potevi limitare grossomodo che alle email per lavoro e se si aveva bisogno di un file più grosso di qualche file audio o video bisognava aspettare. È arrivata probabilmente al momento giusto perché i bambini sono cresciuti, ho avuto degli impegni di lavoro molto legati all'estero nei quali le videoconferenze sono diventate proprio in questi anni il lavoro usuale. I ragazzi possono accedere a tutta una serie di risorse educative che non avevano e che non sono poche perché consideriamo che la larga parte delle cose che possono imparare lo possono fare con dei tutorial video. Consideriamo che mia moglie è francese e io sono di origine siciliana e Skype è diventato il modo per comunicare anche con i propri cari che sono mille chilometri al nord e mille a sud. La banda larga è stata la possibilità di aprire e mantenere aperta una finestra nel resto del mondo non solo per me ma anche per i miei figli. La banda larga è stata la piacetta di autograerone. La banda larga è stata la piacetta di autograerone. La banda larga è stata la piacetta di autograerone. Il per il complesso è diventato il modo per i miei figli. Grazie a tutti.